Musica Buonasera amici di Udinese TV, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Orizzonti Bianconeri, il nostro contenitore settimanale sul settore giovanile del Udinese. La primavera riprende il campionato dopo la sosta per le nazionali e lo fa con un turno subito molto impegnativo dove questo sabato affronterà in casa il comunale di Manzano la capolista Ellas Verona. Parleremo di questo e del momento generale della squadra bianconera con il tecnico Filippo Cristante che questa sera è il nostro ospite graditissimo in studio. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua, cominciamo un attimino ripartendo da quella che è la situazione di classifica che vede l'Udinese a 13 punti al terzo posto assieme allo Spezia e al Pordenone. Si tratta del terzetto all'immediato inseguimento del duo di testa che comprende il Verona con 21 punti e il Milan con 20. L'Udinese torna quindi in campionato dopo aver ripreso una buona marcia fatta di due vittorie maturate contro il Venezia e fuori casa invece contro lo Spezia. La prima domanda che le faccio, mister, è che cosa ha portato la squadra, quindi riavolgendo un pochettino il nastro, a reagire dopo quello che invece era stato un ciclo negativo? Questo è un aspetto molto positivo perché i ragazzi anche davanti a delle difficoltà hanno saputo reagire e questo è accaduto sia dopo qualche sconfitta e anche nella partita contro la Spezia che ci ha visto sotto la prima parte e poi alla fine siamo riusciti a raggiungere il pareggio e non ci siamo contentati e abbiamo fortemente avuto la vittoria che è arrivata proprio allo scadere. Quindi questo è un segnale importante da parte dei ragazzi ma sin dall'inizio è un gruppo che sa affrontare anche in momenti meno buoni diciamo e quindi per il proseguo questo è un aspetto che sicuramente ci tornerà utile. C'è stato il weekend di sosta per le nazionali, come avete affrontato allora questo periodo? Sicuramente galvanizzati un poco da questo ritorno all'abituarsi con i tre punti ma anche con un po' di preoccupazione in senso positivo che poi si trasforma in impegno, in adrenalina sul campo per quello che poi sarà un ciclo particolarmente impegnativo che vi vedrà protagonisti da qui alla fine del girone di andata perché dopo il Milan, scusate, dopo il Verona ci sarà il derby con il Pordenone in trasferta e poi il Milan appunto come ultima di andata di nuovo a Manzano. Sì, cominciamo questa parte finale del girone di andata con una serie di sfide importanti arriviamo da due risultati positivi, da sei punti, sicuramente questo ci dà innanzitutto entusiasmo e poi la consapevolezza che se affrontiamo le gare nella maniera giusta escono le nostre qualità e adesso il focus è sul Verona che affronteremo sabato è una squadra che sta facendo un percorso importante viene da una sconfitta contro il Milan che è la prima sconfitta di queste otto prime giornate quindi sicuramente verrà motivata e vorrà riprendersi ma da parte nostra queste due settimane ci hanno permesso di prepararci di affrontarla nella maniera giusta e mettendo in campo quelle che sono un pochettino le caratteristiche che ci contraddistinguono. Questo che vedete in grafica è il quadro completo del turno della nona giornata del campionato di primavera 2 che oltre a Udinese e Verona prevede anche i seguenti incontri Brescia-Milan, Parma-Cittadella, Spal-Cremonese-Venezia-Spezia e Dentella-Pordenone. Allora mister, Verona capolista, secondo miglior attacco del campionato con una bocca da fuoco in particolare che è Adama Sane che ha realizzato 10 gol quasi la metà del fatturato complessivo della squadra. Come si prova a fermare una squadra del genere e quali sono i punti di forza secondo lei che l'hanno portata a vincere le prime sette partite per poi invece andare a incappare nell'ultimo turno in una sconfitta contro il Milan seconda della classe che ci poteva assistare ma magari non ci si aspettava con questo risultato roboante 5-0. Sì, vedendo e analizzando quello che è stata la partita contro il Milan è un risultato bugiardo perché il Verona ha fatto una buona gara per 65 minuti poi dopo aver subito il primo gol si è lasciato andare ma nella prima parte di gara ha creato, come dicevi tu giustamente, è una squadra che a livello offensivo ha un potenziale importante, ha un tridente che ha totalizzato quasi da solo tutti i 19 gol fatti, è una squadra che è molto rapida a ripartire, a capolgere il gioco ma è una squadra che sa anche giocare quindi se si trova in questa posizione certamente ha dei meriti. Spetterà a noi lavorare bene sotto il profilo dell'attenzione mettendoci un attimino quello che è un aspetto importante che è il coraggio il coraggio ci deve essere oltre alla determinazione di fare una grande gara. Coraggio che non vi è mancato del resto anche nei precedenti incontri partita Udinese-Verona che trasmetteremo in diretta su Udinese TV questo sabato a partire dalle 14.25 direttamente dal comunale di Manzano riavvolgiamo un attimino il nastro perché è sosta del campionato significa anche comunque scaldare i muscoli con turni amichevoli voi l'avete fatto mercoledì, otto giorni fa a Prosecco contro gli sloveni del Tabor Cesana la prima squadra invece l'ha fatto sui campi del Bruseschi contro lo Spartak Jurmala dove il protagonista è stato proprio un giocatore primavera Ballarini che è andato anche in gol allora riproponiamo l'intervista le sue parole quindi a caldo al termine dell'incontro che poi andremo a commentare assieme al mister Marco Ballarini una bella soddisfazione perché si è partito a tolare in un amichevole comunque internazionale con la prima squadra in Udinese ed hai trovato anche il gol che ha sbloccato il match Sì, sono contentissimo della prestazione che abbiamo fatto e soprattutto che ho trovato il gol adesso spero che il mister mi dà la possibilità di continuare ad allenarmi con la prima squadra e magari trovare qualche minuto non solo in un amichevole ma anche in una partita appunto di campionato o magari Coppa Italia Sei giustamente ambizioso e fai bene perché al di là del gol è stata una prestazione importante che hai sfoderato anche quel salvataggio alla fine sul tiro dell'attaccante dello Spartak Sì, appunto ho iniziato la partita da mezz'ala il mister mi aveva detto i movimenti da fare durante la fase di possesso e quelli di non possesso alla fine mi ha provato come quinto e penso di aver fatto bene anche appunto in quel ruolo lì quindi sono soddisfatto Riprenderà poi il campionato primavera la prossima settimana avete un ciclo duro e importante che vi aspetta insomma partite difficili il Verona e il Milan che è in ripresa ha battuto proprio il Verona però anche voi due vittorie consecutive e pian piano state risalendo la classifica Sì, adesso appunto abbiamo le partite più dure gli scontri diretti che ci permettono di capire se possiamo ambire appunto a recuperare questo campionato e noi faremo di tutto per vincere per portare a casa i tre punti Mister, quindi abbiamo sentito la soddisfazione di Ballarini che cercherà quindi sempre più spazio nella prima squadra ovviamente continuando a dare il suo importante contributo con la primavera lui che è un perno del vostro centrocampo Sì, fa piacere che sabato abbia avuto la possibilità di giocare dall'inizio di fare 90 minuti di mettersi in mostra perché è un ragazzo che è partito con noi in ritiro quest'anno è cresciuto moltissimo e adesso il fatto che possa riuscire a essere in prima squadra è ben figurare fa piacere a noi come staff tecnico ma fa piacere innanzitutto anche alla società quindi è un buon proseguo e deve essere anche uno sprone per tutti perché penso che anche i ragazzi che quotidianamente si vanno ad allenare in prima squadra siano sempre sotto la lente di ingrandimento sicuramente verranno valutati e se ben figureranno potranno fare il passo anche loro con la prima squadra Prima di salutarla, mister prima di passare quindi anche all'analisi delle altre formazioni under le faccio un'ultima domanda un po' più generale su come sta vivendo questa esperienza a Udine lei che è arrivato da anni importanti al Pordenone sì, un'esperienza importante in un contesto dove si fa calcio ad alti livelli si respira calcio ad alti livelli e questo anche il poter essere a fianco della prima squadra ad allenarsi e a mettere a disposizione sia i ragazzi ma anche cercare di condividere insieme allo staff tecnico della prima squadra penso che sia da un punto di vista personale un arricchimento il cammino è ancora lungo c'è da lavorare, c'è da stare sul pezzo però qua c'è la possibilità di poter lavorare al meglio Ringraziamo allora il mister Filippo Cristante per essere stato con noi ovviamente un in bocca al lupo per il proseguo del campionato e la sfida contro la capolista Verona Crepi, grazie sfida di cui vi ricordo ancora la diretta sudinese tv sabato a partire dalle 14.25 e ora prima di passare alle under chiudiamo questo spazio dedicato alla primavera con questa clip con alcuni dei gol più belli realizzati finora dalla squadra del mister Cristante è 1 a 0 per i bianconeri Enrico Ovisda Ballarini prova a fare da solo la conclusione è da il 2 a 0 Pianesi grande palla per Comisso a tu per tu con il portiere e non poteva sbagliare e sono tre si va invece qua per il passaggio lungo e svetta su di tutti Biancon nuovo acquisto dell'Udinese che battezza quindi il suo esordio in bianco nero con il gol del 4 a 0 Ianesi che è l'uno e mezza a due Ianesi la conclusione e il gol che giocata dall'aggancio al doppio dribbling e mentre il pallone carambola fortunosamente in rete e quindi c'è l'uno a uno attenzione al cross in mezzo e si sblocca c'è il gol dell'Udinese lo spunto lo spunto vincente da parte di Ballarini Ubala che riesce a saltare l'avversario va a servire Ianesi alla possibilità di questo destro giro e c'è il gol Simone Ianesi Calcio di rigore per l'Udinese attende che il portiere si butti e la mette in rete Rigore battuto da compagnon c'è la rete c'è la rete delle 2 a 1 per l'Udinese Riprendiamo la nostra analisi il nostro viaggio attraverso tutte le categorie under dell'Udinese parlando del under 17 ieri si è giocato il recupero della settima giornata che ha visto i bianconeri di Mister Giatti impegnati nella trasferta di Ferrara contro la Spal purtroppo non è andata bene perché è uscita una sconfitta per 2 a 1 i ferraresi ci hanno messo meno di mezz'ora per chiudere la pratica andando in vantaggio subito al terzo minuto con la rete di Faggi e poi raddoppiando il 25esimo con il rigore trasformato da Batamasi nella ripresa l'Udinese prova a reagire con Bascia subito in rete che sigla il 2 a 1 quindi al secondo minuto i successivi 20 minuti vedono la nostra squadra particolarmente attiva alla ricerca del pareggio poi però le energie sono venute a meno e anche le sostituzioni attuate dal tecnico bianconero non hanno portato quella linfa giusta per cercare fino in fondo il pareggio è chiaro che un periodo caratterizzato da numerose soste per l'Udinese ha un poco caratterizzato il rendimento di squadra dato che dopo il pareggio ormai risalente a metà ottobre contro il Milan c'è stata prima la sosta per le nazionali la sosta di ottobre poi il rinvio della partita contro la Spalla che è stata recuperata ieri e successivamente invece arriviamo a questa domenica la sospensione della sfida interna contro il Venezia addirittura dopo soli 4 minuti di gioco a causa delle avverse condizioni atmosferiche ora tra l'altro ci sarà una nuova sosta con il campionato che riprenderà soltanto nel mese di dicembre con 4 sfide filate fino a Natale dove quindi l'Udinese cercherà di prendere un pochettino più di ritmo e recuperare anche terreno in una classifica che complessivamente non è comunque malissimo perché l'Udinese è al nono posto in coabitazione con il Venezia e il Brescia deve recuperare appunto la sfida con i Lagunari che potrebbe quindi riportarla nella parte sinistra della classifica passando invece al under 16 c'è stato il pareggio al cospetto del Chievo Verona per l'11 allenato da Massimiliano Rossi quindi un altro risultato positivo per la precisione il quarto consecutivo una mini striscia fatta di due vittorie e due pareggi l'Udinese è riuscita a recuperare il risultato dopo essere andata in svantaggio al dodicesimo minuto del primo tempo con Della Francesca che ha sfruttato una battuta a vuoto della difesa bianconera nella ripresa Gotter guadagna il calcio di rigore realizzato poi da Campana quindi ancora Gotter grande propensione offensiva alla sua oltre ai gol e anche le occasioni create in questo caso appunto l'azione del rigore questi i risultati del undicesima giornata Brescia Cremonese 5 a 0 Chievo Udinese 1 a 1 Atalanta Inter 0 a 2 Bologna Venezia 2 a 1 Inter Pordenone 3 a 1 Spalle Cittadella 5 a 2 Verona Cagliari 1 a 1 in classifica l'Udinese che era partita molto male è stata anche ultima in classifica dopo i primi turni che l'avevano vista racimolare veramente poco ancora con questi quattro risultati utili consecutivi piano piano sta risalendo la china eccola qui a 10 punti assieme al Chievo e vedete comunque che Cittadella Brescia e Pordenone sono ancora piuttosto vicine il campionato ancora lungo c'è tutto il tempo anche per la squadra di Mister Rossi di guadagnare posizioni della parte sinistra della classifica pareggio sempre con il Chievo anche per l'Under 15 in questo caso 1-0-0 che serve alla squadra di Zompicchiatti per tornare a far punti dopo l'inaspettata sconfitta maturata la settimana precedente a Cittadella sentiamo subito le interviste che abbiamo raccolto in settimana per fare il punto sulla situazione dell'Under 15 dopo alcune trasferte dove abbiamo subito un po' di gol questa partita è stata molto combattuta abbiamo avuto occasioni noi occasioni loro e di positivo c'è stato che siamo riusciti a tenere il risultato e anzi fino all'ultimo secondo abbiamo provato a fare gol il nostro obiettivo è quello di fare la miglior stagione possibile e siamo contenti di quello che stiamo facendo in allenamento stiamo sempre dando il massimo è un buon momento e comunque è lungo come hai detto tu il campionato e cerchiamo sempre di fare più punti possibili ora c'è la sosta poi si torna in casa per affrontare il Bologna il primo di dicembre che partita sarà? sarà una bella partita sicuramente uno scontro diretto siamo vicini in classifica e cercheremo di prepararci al meglio per fare una gran partita come ti trovi con la squadra di mister Zompicchiatti quali sono le tue prospettive future i tuoi sogni anche con la maglia bianconera? mi trovo molto bene con la squadra soprattutto con questo grande mister sono sempre molto felice di andare a fare allenamento già dalla mattina quando mi sveglio i miei sogni sono sicuramente quello di arrivare in primavera e poi giocare in Serie A in prima squadra è stata una bella partita combattuta fino alla fine eravamo reduci da una sconfitta a Cittadella per 3-1 quindi era molto importante fare punti soprattutto fuori casa quindi siamo contenti di questo pareggio prossimo turno dopo la sosta con il Bologna per cercare di rimanere in zona playoff si è uno scontro diretto perché siamo molto vicini in classifica quindi è sicuramente fondamentale vincere per fare punti sicuramente siamo un bel gruppo un grande mister stiamo facendo molto bene soprattutto a livello di squadra il mio obiettivo è quello di arrivare sicuramente in primavera e dopo in prima squadra i risultati dell'undicesima giornata del campionato Under 15 Brescia Cremonese 3-1 Chievudinese 0-0 Atalanta Inter 1-1 Bologna Venezia sospesa e rinviata Milan Pordenone 8-0 Spal Cittadella 1-1 Verona Cagliari 1-3 in classifica vedete intanto che contrariamente a quello che avviene nelle altre categorie l'Atalanta schiaccia sassi un po' di tutti i tornei in questo caso un poco più attardata è solo al decimo posto a 12 punti l'Udinese invece è quella messa meglio delle nostre Under perché è quinta con 17 punti a pari merito con il Brescia quindi momentanea zona playoff per i ragazzi di Zompicchiatti che però devono recuperare qualche punto rispetto a Bologna Cagliari e al duo di testa formato dalle milanesi è tutto anche per questa sera Orizzonti Bianconeri ritorna giovedì prossimo grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata su Dinese TV Grazie a tutti